Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come punto per la prima volta l'attenzione degli spettatori del Grande Fratello 2023 starebbe virando verso tutt'altro lido rispetto a Beatrice Luzzi ed i suoi Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi o l'amore e odio con il guru Il triangolo per Lavatiero, Mirko Brunetti, Greta Rossetti regge botta e poi potrebbe diventare un quartetto In realtà adesso sarebbe ancora il caso di parlare di coppia, sebbene ancora scoppiata, perché fino alla prossima puntata del Grande Fratello 2023, di sabato prossimo, in casa ci sono solo per Lavatiero e l'ex Mirko Brunetti Arriverà a Greta Rossetti e non solo. La Salernitana ha fatto una richiesta La gelosia di lui.Grande Fratello, Perla non ci sta e chiede un ingresso nella casa Giusto qualche ora fa i due ex protagonisti di Temptation Island erano nel salotto dell'appartamento di Cinecittà a chiacchierare con Letizia Petris e Massimiliano Varrese, quando per Lavatiero ha stuzzicato improvvisamente Mirko Brunetti, riuscendoci senza grandi sforzi Comunque l'ho fatta la mia richiesta al Grande Fratello 2023, ha spiegato con un sorriso sornione mentre le antenne dell'altro si rizzavano E so anche quale, ha subito replicato Mirko Brunetti lasciando intendere fosse da sempre al corrente di una inguaribile attrazione che l'ex fidanzata ha sempre nutrito per un ragazzo abbastanza famoso Infatti la richiesta di cui parlava era di farlo entrare, domame da che il reality farebbe quasi a tutti prima di entrare Si tratta dell'ex volto dell'isola dei famosi 2023, Luca Vettrone Il modello è persino uscito con la 25enne.La Salernitana lo aveva raccontato qualche giorno fa nella spiata di Mora, spiegando che tuttavia l'uscita con l'ex naufrago di Ilari Blasi non fosse andata bene perché lei aveva realizzato di non sentirsi pronta a una nuova frequentazione dopo Igor, il suo tentatore in Sardegna, e la confusione per l'ex Di certo è un bel ragazzo. Mi è sempre piaciuto, esteticamente, e si può dire sia il mio prototipo, aveva detto a Letizia La ciliegina sulla torta? La Petris conosce il baldo 28enne. Anche per questo motivo la voce del possibile ingresso del ragazzo in qualità di nuovo concorrente si sta facendo sempre più concreta dentro e fuori la casa Se così fosse, dopo l'entrata di Greta Rossetti della prossima puntata, con questo ipotetico arrivo il caos sarebbe assicurato Vi prego fatelo entrare, beh se entra Greta, perché no oppure lui? Sarebbe il top, magari e sarebbero una coppia bellissima, come gli erode, scrivono dei fan, spiazzati, su Twitter Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video